Ciao a tutti sono Bom7777 e benvenuti nel 14esimo episodio della mia carriera allenatore Forse il 14esimo, si Vabbè, oggi andremo ancora a giocare la prima partita Che in realtà è la seconda che faccio con l'Inghilterra La prima l'abbiamo vinta e anche alla grande contro la Svezia Adesso abbiamo la Polonia Quindi vabbè, non diciamo nient'altro Andiamo ancora ad usare la nostra bella Inghilterra Guardate qua, un bel tridente dietro Runei, tutte queste robe qui Vabbè, e cos'altro dire? Andiamo e basta, andiamo a giocare Ok, eccoci qua Io ne approfitto dell'inizio di questa partita per ricordarvi che Da questa settimana in poi usciranno due episodi della carriera a settimana Vabbè, ve lo dico solo, infatti tantissimi me l'avete detto Avete ancora qualcuno detto tre episodi Ma io non posso proprio fare tre episodi Vabbè, siamo con due e nient'altro Soprattutto perché con due almeno potrò andare un po' più velocemente Perché procede davvero all'invento Ok, Saric in area Subito, Saric C'era la mezza papera del portiere Che però riesce a salvarsi in angolo Vai, Steve G Il cross Palla che rimane lì Karik, Karik Da fuori, deviata Ok 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 Entrata Va bene 1-0 per noi Il vantaggio Non so chi l'ha siglato Però è il gol più strano Che è uno dei gol più strani che abbiamo mai fatto Terry recupera Super Walcott ancora Walcott C'è l'inserimento di Starridge È buona Vai Starridge Spinge Starridge In area Starridge Ancora La parata Dentro Starridge Il tiro Altra parata Starridge Rumè è una sfida col portiere Starridge prova a piazzarla stavolta Ancora Starridge Il tiro Oh, è un 1 contro 1 Runei passa Runei Runei Ancora avanza Runei Fermato Meno male che siamo andati in vantaggio con quel gol Senna non l'avremmo più sbloccata Runei l'ha riconquistata di testa Runei In area Runei Poi palla che rimane lì È 2-0 Ancora un gol semplicissimo Comunque l'importante Che abbiamo raddoppiato Una volta Starridge lo riesce a battere in bordiere E 2-0 Bainz 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 Non so che fare Bainz Prova a passare Ma la tiene in qualche modo Bainz ancora Poi rimane lì Ed è angolo Occhio a Lewandowski Occhio a Lewandowski Occhio a Lewandowski Occhio a Lewandowski Dentro per Grosicchi Occhio no E poi 1-1 Un tiro Un tiro 75 Riapre tutta la Polonia E un'altra volta Noi che attacchiamo Sterling Metti bene Sto cross Vai Welbeck Andiamo su Prova ancora Drilling Welbeck Che viene fermato Però non credo Ci sia più tempo E infatti finisce qui 2-1 L'abbiamo fatta riaprire Ma perché siamo stati generosi Comunque L'importante è vincere 2-1 Bella vittoria Molto importante Perché stacchiamo Forse da tre squadre Ok Portogallo e il Belgio Hanno vinto Quindi non abbiamo staccato Sarà una lotta a tre Per i primi due posti Andiamo avanti Perché solo tre giorni dopo Abbiamo il Mönchengladbach Allora In caso di vittoria Andiamo a 25 punti Sempre meno 9 dal Bayern Però non dobbiamo Perdere il contatto Guardalo subito De Bruyne Come scatta Guarda che bravo De Bruyne De Bruyne De Bruyne Piova Piovia Prova a piazzarla Gerson passa Occhio Kramer Kramer perde Balla Vai che si riparte Con Dybala Contro tre Dybala Fermato però c'è Ramirez Dybala rimane a terra Ancora Ramirez Che si inserisce Nei due però Ramirez Sì si ferma Ancora Ramirez Che si gira Ramirez Ciacca dentro Cruze Cruze Il tiro E Vantaggio di Mönchengladbach Occhio 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 Il vantaggio di Ibrahima Traore Eh questo è il nostro problema Non perdiamo mai Non sappiamo cosa vuol dire Provare la sconfitta Finisce comunque il primo tempo Partita Non posso neanche dire Equiliberata Perché Mi ha fatto un gol E non riesco più Proprio ribaltarlo Royce 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 Puntalo Dai che mi ha regalato Proprio un angolo Non buttiamo a quest'occasione Royce Avanza È morto Royce In aria Ancora Royce 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 Sul fondo Non riesco A segnare Dai Dybala Andiamo almeno per un pareggio Dybala Dybala Ma la vedo dura Non mi dà su spazi Appoggia per Ramirez Ancora Il tacco De Bruyne De Bruyne Quanti sono in difesa È tutto dietro Il Matching Lab Tutto Ramirez Prova a mettere il turbo Ramirez ancora Ramirez Vai 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 1-1 1-1 Abbiamo ancora 10 minuti Non perdiamo il Bayern No Non ce la facciamo Angolo Machine Lab Un punto è meglio di 0 Però Bain che in caso di vittoria Ci staccherebbe ancora di più Non lo prendiamo mai Dai Sain portiamola su Occhio Occhio C'è lo spazio Sì Vabbè Sain è lentissimo E no No Niente Finisce qui 1-1 Tra Borussia Dortmund Demotion Gladbach Guardate Ma guardate Ma dai Vabbè Nella prossima Imo Landerlecht Questa sì Che è una partita decisiva Perché in caso di vittoria nostra E in caso di vittoria del Barcellona Contro l'Olympiakos Siamo matematicamente agli ottavi Quindi Attenzione Vabbè Per questo video Non ho nient'altro da dire Io vi ricordo sempre Di Consigliarmi Altre cose Per modificare La formazione Perché io ho sempre problemi Non lo so Con Royce Con tutti Continuano a non convincermi Tante cose Ma se il video ti è piaciuto Metti mi piace Iscriviti al mio canale E commenta E da Bon Senti 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 E è tutto Ciao a tutti